20 anni di attività per la pedagogia e la sfera matrimoniale in università. Il CESPEF festeggia una lunga presenza nell'Ateneo Bresciano, dove il Centro Studi Pedagogici sulla vita matrimoniale e familiare è nato nel 1996. Da allora la sede bresciana ha raggiunto con il suo centro di studi numerosi obiettivi, al fine di aumentare il numero di ricerche relativa all'educazione della sfera familiare e di promuovere il rapporto delle famiglie con la società esterna, grazie ad un modello di vita matrimoniale specifico per ogni realtà. Molto spesso quando si parla di famiglia se ne parla soprattutto dal punto di vista dell'istituzione sociale. A noi importa narrare la famiglia cogliendo proprio le varie pieghe educative della famiglia stessa, quindi l'intreccio delle relazioni, l'intreccio dei rapporti che si alimentano di affetti, di emotività, di attese, di speranze, di dolori. Da questo punto di vista allora la narrazione vuole essere proprio un modo per far emergere il vissuto della famiglia, un vissuto che molto spesso non è conosciuto nella sua effettiva realtà, che poi invece è quella che incide maggiormente sulla crescita delle persone che ne fanno parte della stessa. Un ciclo di incontri organizzati dall'osservatorio ha recentemente analizzato queste dinamiche in collaborazione su commissioni di enti pubblici, organizzazioni profit e no profit, aziende ospedaliere, fondazioni e cooperative sociali. Una fotografia che potrebbe presentare, giusto per rimanere nel linguaggio fotografico, potrebbe presentare certamente luci, ombre, qualche immagine sfocata, però ha anche tutta una serie di questioni che magari la macchina fotografica di un tempo non riusciva a cogliere. Parlare di famiglia oggi significa parlare di una realtà oltremodo complessa, di una realtà che certamente sta assumendo a livello sociale una serie di aspetti, di questioni, che dal punto di vista della pubblicizzazione spesso vengono sottolineati come elementi che esauriscono l'essere famiglia. Benessere educativo che sposa famiglia, lavoro, educazione e università, continuando il ventennale lavoro del Centro Studi Targato Cattolica.